Ciao a tutti, allora come vedete dal video temo che ci siano dei problemi su questo telefono però non riesco a capire bene perché mi sembra che faccia le righe ora, non so se voi riuscite a vederlo, io personalmente le vedo quando registro e quando rivedo il video, quindi immagino che le vedete anche voi quindi perdonatemi ma al momento non so che cosa sta succedendo non lo so, cercherò di capire, è il Samsung di mio marito anche perché il mio iPhone non è possibile registrare perché ho la memoria out allora, sono qua per farvi due recensioni e farvi vedere, tre recensioni anzi scusate e farvi vedere una cosa che ho preso venerdì o sabato, sabato forse, sabato su Amazon io ho Amazon Prime, quindi quando acquisto nel fine settimana e lunedì ho quasi sempre le cose a casa di conseguenza ho acquistato queste cose con Amazon Prime e mi sono arrivate stamattina allora, partiamo da... vi devo fare tre recensioni di prodotti che sto utilizzando in questo periodo ho rifatto Elumen ieri, ecco, ieri sabato ho rifatto Elumen, quindi sono di nuovo fucsia acceso per fortuna perché avevo... sentivo una pazza allora, ci sono i cani che stanno giocando, quindi probabilmente sentirete a ringhiettare, a baiare varie ed eventuali non fateci caso, il mio occhio va molto meglio, si sta riprendendo questo è... tra parentesi allora, cominciamo dal... dire che io sabato sera sono stata a cena a casa di mio cugino che ha fatto il compleanno, di conseguenza c'erano tutti i nostri amici e io non avrei dovuto truccarmi perché in teoria... ma... io non esco di casa struccata neanche sotto tortura perché mi sento a disagio ho delle occhiaie, insomma, mi sono truccata in poche parole ho evitato ovviamente di truccare gli occhi ho messo solo il fondotinta un po' di... perché sono piena di macchie un po' di blush e un filo di eyeliner solo sulla parte finale dell'occhio quindi che non andava a dare fastidio l'oculista mi ha detto che posso truccarmi posso mettere le lenti a contatto quindi sono piuttosto tranquilla sotto questo punto di vista è semplicemente il calazio che si è formato sull'occhio che prima o poi andrà via con la cura che sto facendo ho fatto un test su strada nonostante... io avevo e ho ancora la BB cream della so bio aperta ve li farei vedere in questo momento sembrano le alci le alci siamo in piedi si toccano le zampine smettetela nonostante io abbia ancora la BB cream della so bio etica aperta ho voluto testare perché ero troppo 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 curiosa il nuovo fondotinta della Alverde quello che ho preso al DM settimana scorsa questo qua si chiama perfect cover foundation and con clear cosa significa? che questo fa sia da fondotinta che da correttore quindi da... per le occhiaie io ho detto se vabbè ciao e invece ragazze è vero io non avrei avuto bisogno di mettere il correttore e mi tolgo gli occhiali così lo vedete meglio l'entità delle mie occhiaie cioè allora è vero che l'ho messo solo sotto non l'ho messo sopra però sotto io ho la maggior parte delle occhiaie soprattutto in questo ho in quest'occhio perché ovviamente avendo questo calazio ho l'occhio più gonfio quindi occhiali e borse allora cosa posso dire di questo fondotinta e correttore? personalmente non acquisterò più la BB cream della sua bioethic perché questo costa circa 5 euro meno di 5 euro 4,39 euro mi sembra andate a guardare il video del DM perché lì ve lo dico quanto costa 4 euro comunque meno di 5 euro quello ne costa 12 quella in inverno in estate non la posso usare perché quando io uso la BB cream in estate cioè ralamente però non la posso usare perché è troppo troppo compatta e soprattutto io che ho la pelle secca se la non la applico bene non la applico non la stendo bene non la sfumo bene tende a devi iniziarmi le pellicine perché ho la pelle secca quindi in questa zona in questa zona io so ho proprio la pelle secca in queste zone non soffro di pelle grassa quindi e il che è un male perché il grasso quando voi vi lamentate di avere la pelle grassa è meglio di avere la pelle secca perché il grasso tende a nutrire la pelle e a mantenerla elastica quindi non è un male avere la pelle grassa ovviamente non troppo grassa giusto lubrificata ecco allora io ovviamente in estate non ho la pelle secca in estate ce l'ho abbastanza buona quindi tendo comunque è il freddo che me la rovina che tende a screpolare la mia pelle ecco questo qua è favoloso perché rimane morbido lucida un pochino la pelle quindi secondo me è poco adatto chi ha la pelle grassa o molto grassa va bene per chi ha la pelle secca o mista ma per chi ha la pelle grassa secondo me non va bene l'unica cosa che non mi piace assolutamente è che non ha la pompetta ha praticamente questa palettina che tu applichi sulla beauty blender umida e poi distribuisci il prodotto per il resto ha un profumo favoloso di mandorle è una cosa proprio divina divina ed è stendibilissimo cioè io con la beauty blender umida ho fatto uno strato che ha coperto perfettamente imperfezioni e occhiaie un mio mai più senza io spero che il DM non lo tolga mai perché altrimenti li uccido allora ovviamente l'inci è perfetto non ve lo dico è certificato bio quindi questo favoloso lo testeremo insieme vi farò vedere l'applicazione adesso non lo faccio perché ho gli occhiali dovrei mettermi le lentine quindi nel prossimo mi preparo con voi utilizzerò questo così ve lo farò vedere è straordinario per quanto mi riguarda sto utilizzando sempre del DM queste salviette struccanti e le ricomprerò allora a parte il profumo di mela e lime che è qualcosa di divino struccano perfettamente e purificano questa zona naso dove ci sono punti neri e mento in un modo straordinario io mi sono resa conto che portano via un sacco di impurità quindi queste le ricomprerò sicuramente quindi le sto utilizzando tantissimo e sono delicate anche nella zona del contorno occhi che di solito io quando utilizzo una salvietta struccante struccante non struccanze ciao struccante tende a farmi bruciare leggermente gli occhi con queste non succede un'altra cosa che sto amando follemente sto utilizzando per adesso solo questi perché quando io mi innamoro di un prodotto io tendo a utilizzare sempre quel prodotto per un lungo periodo è la tinta ever della we make up allora qui ne ho presa una in rappresentanza ho preso lo 03 il nude allora le adoro le adoro allora seccano le labbra pochissimo veramente veramente poco rispetto a una tinta labbra che ha questa durata durano un casino io esco con la tinta torno a casa dopo aver mangiato fuori e la tinta è ancora lì l'unica cosa è quella un po' più scura quella rossa tende ad andare via dall'interno ma questo lo sappiamo ma questa nude e quella malva resistono perfettamente quindi è super promossa questi sono i tre prodotti che io sto testando e utilizzando in questo periodo con cui mi sto trovando benissimo sono andata in farmacia e in farmacia mi rimane sempre qualcosa staccato alle mani come in tutti i negozi d'altronde ho trovato questo sapone vegetale ecocertificato organico alla cannella siccome io devo avere tutto quello che è profuma di cannella mio dio è qualcosa di divino lo utilizzerò lo utilizzerò questo qua serve per aspettate che io sto cercando il sapone alla cannella è purificante mi sembra sì allora questo è purificante serve proprio per dare purifica e tonifica la pelle quindi lo utilizzo io lo utilizzerò momentaneamente perché l'altro è praticamente finito io la mattina uso il sapone questo così non uso il detergente di solito quando mi alzo al mattino mi metto lavo la faccia col sapone duro me l'ho insegnato lo fa mia madre lo faceva mia nonna lo fanno tutte le donne e la mia famiglia quindi io uso questo ho usato fino a sto quasi per terminare quello alla camomilla dei provenzali adesso utilizzerò questo perché mi piace mi piace proprio la sensazione di pulizia che lascia il sapone è solido è così è abitudine allora vi dicevo venerdì ragazzi vi dicevo venerdì sera sabato sera sabato sera non mi ricordo o venerdì o sabato comunque non è importante ho acquistato su amazon questo prodotto scusate sul mio gruppo facebook vi lascio sempre giotto giù nell'info box il mio gruppo facebook sul mio gruppo facebook una ragazza non ricordo chi in questo momento mi perdonerà ha postato queste maschere della fructis allora queste maschere della fructis a quanto pare vengono vendute solo in america momentaneamente sono 98% di origine naturale quindi non contengono siliconi parabeni coloranti artificiali non contengono schifezze ecco finalmente la fructis e molte altre marche stanno andando verso quella direzione e si spera che è vegana ovviamente non testa su animali che ve lo dico a fare perché la Garnier ha smesso di testare per fortuna e quindi andiamo nella direzione giusta questa questa ha un triplo utilizzo è alla banana intanto per cui tutto quello che per me è alla banana è mio ha un triplo utilizzo quindi questa si usa come balsamo classico come maschera pre o post shampoo e come trattamento post shampoo quindi si trattamento senza risciacquo maschera e balsamo quindi ha tre utilizzi la confezione è da 390 ml quindi quasi 400 ml e anche per la grande e l'offerta amazon comprendeva 1 2 e 3 maschere al prezzo di 14 euro momentaneamente questa questa maschera nei supermercati non si trova io l'ho cercata non l'ho mai vista c'è questa la banana quella l'avocado e quella la papaya io ovviamente ho scelto quella la banana perché sono fissatissima con la banana e soprattutto perché è nutriente e anticrespo ecco due sono mie e una di mia sorella quindi voglio vedere la proverò nei prossimi giorni e vi farò sapere come sono proprio curiosa perché io cerco sempre alternative economiche perché contate che una di queste maschere l'ho presa a meno di 4 euro cioè poco più di 4 euro quindi alternative economiche e buone sempre alla ricerca io perché è vero che esiste il bio esiste buoninci però bisogna anche scegliere i prodotti in base anche alle proprie tasche perché se devo spendere 25 euro per una maschera ma anche no oppure 20 euro per un fondotinta no quindi io scelgo e cerco sempre alternative economiche che sta succedendo vabbè non è importante stanno arrivando le notifiche del mio gruppo facebook vi lascio sempre giù nell'infobox il mio gruppo facebook quindi io cerco sempre alternative economiche e ecosostenibili e soprattutto ecologiche sia per l'ambiente che per la salute sempre mi vedrete alla ricerca o suggerire prodotti che costano meno rispetto a quelli che costano di più è vero ci sono tantissime marche eco bio di fascia medio alta alta altissima io personalmente preferisco medio basso perché ho provato che non è il prezzo che fa la qualità delle cose assolutamente assolutamente non è il prezzo che fa la qualità delle cose bene io vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao